Quindi, l'altra volta abbiamo visto che questo codice, arriviamo alla fine, produce in stampa le percentuali di 5 lettere. E se ora vi dicessi che con gli array associativi è un po' di magia di programmazione, questa manciata di righe lo fa e per qualunque lettera presente nel file da consumare, anzi, non solo lettere, anche la punteggiatura, gli spazi, tutto. Non sareste d'accordo con me nel considerare questi array associativi davvero interessanti? Io penso di sì. In realtà il concetto dietro un array associativo è davvero semplice. Invece di avere un array, come l'altra volta, di 5 interi e poi di ricordarci che l'indice 0 corrisponde a1e2e3o4u e scrivere perciò dolla frequenzi 3++, Dai, al volo, che lettera è? Ci avete pensato un attimo? Pensate, doveste farlo per tutte e 26 dell'alfabeto. Non sarebbe molto meglio poter scrivere questo. Così, dove invece di una posizione numerica scriviamo una stringa che è la chiave d'accesso, quel valore, che associa a questa chiave, ecco perché si parla di array associativi, questo valore, questa espressione, e funziona davvero. Proviamo a stampare il doppio di quel 6. Nessun problema. Vediamo ora come inizializzare un array associativo con dei valori tutti 0 come abbiamo fatto qui. Poiché non basta più la posizione, non saprebbe contare da solo, non saprebbe che questo 0 è da assegnare alla A, il secondo 0 alla E e così via. Questa sarebbe davvero magia. Dobbiamo specificare qual è la chiave che porta quel valore, elencandole tutte, almeno è una possibilità. A, che porta al valore, questo significato dalla freccia, 0. E la stessa cosa per le altre vocali. Benissimo. Ora a ogni vocale abbiamo associato il valore di partenza del suo contatore, 0. Prima di scomodare il primo capitolo dei promessi sposi, cerchiamo di risolvere il problema del conteggio delle frequenze con questo breve testo di prova. Vediamo prima una soluzione ingenua, ma già piuttosto interessante. Facciamo passare tutti i caratteri della stringa testo prova. Per ciascuno dovremmo andare a verificare se la lettera sulla quale siamo è una delle chiavi associative che abbiamo predisposto. La W dovremmo insomma scartarla, non ci interessa, e incrementare soltanto dopo qualche tentativo il valore dell'elemento con chiave associativa A di dollaro frecchio. In effetti abbiamo una funzione di supporto per lavorare con gli aree associativi che ci dice se una certa chiave è o non è presente. Estraiamo allora quell'iesimo carattere. Come l'altra volta, per non doverci preoccupare di minuscole e maiuscole, trasformiamolo in minuscolo, cioè lavoriamo sempre sulle lettere in minuscolo, con la funzione str to lower, come facciamo a capire se questa lettera è presente nelle chiavi di frequenze. Ecco la funzione a cui mi riferivo. Array key esiste. Esiste la chiave costituita da questa lettera in minuscolo, virgola. Secondo parametro della funzione. Nell'array dollaro frequenze, con la W, otterremo falso, poi ancora falso, finché arriveremo sulla A. Solo in quel caso. Il controllo darà true e potremo andare ad incrementare a colpo sicuro il valore in quella posizione. E come indice non potremo dare un numero. Abbiamo capito questo ormai. La lettera. La lettera è ancora questa. Quella che abbiamo appena usato qua. Se questa lettera esiste come chiave, allora è quella che dobbiamo incrementare. Un momento perfetto per introdurre un'altra funzioncina sfiziosa e utilissima quando si tratta di stampare, no? Come vorremmo fare adesso l'array. Vardamp. Ci pensa lui a stampare la struttura dati, riconoscendo se non array, facendocelo capire, vedrete, anche distinguendo tra array normali e array associativi. Vardamp, delle frequenze. Ed ecco il risultato. Questo 12, bel 12 di prima, mi sono dimenticato di neutralizzarlo. No, ci sta dicendo. Mi hai chiesto di fare il dump, la stampa brutale, di che cosa? Di un array di 5 elementi. E cavolo, è vero. Da A a U. E poi ce li elenca. Il primo elemento è quello che ha come chiave A e porta come valore all'intero 3. La E all'intero 0. In effetti, di E non ce ne sono. Di I ce ne sono due. Calcio e i T. Di O ce n'è una. E di U 0. Ragazzi, funziona. Capite? Non c'è più bisogno di un mega switch che se con... ce la A fai così, ce la E fai così. No! Il valore stesso è la chiave d'accesso al contatore. Tutto tremendamente più compatto e più semplice. Adesso vado a ripescarmi questo. e questo. Ricorderete poi il comando implode. E abbiamo costruito una stringona con dentro tutto il file dei promessi sposi. Salviamo e riproviamo. Ricorderete, è vero, è un numerino. Questo OneMy è famoso. 3041 e così via gli altri. E sono gli stessi risultati. Ma date un'occhiata a quant'è più compatto il codice. Non c'è paragone. Abbiamo ridotto a un quinto. E immaginate con più lettere. 10, 15 o 26. Sì, prof, stai facendo il furbo. Vardamp ci pensa a lui. Prova tu con un ciclo a stampare i risultati dentro frequenze. Non posso più usare da 0 a COUNT OSTRLEN. Per fortuna, il papà del PHP ha previsto anche questo e un supporto adeguato per ciclare sugli array associativi nei termini delle key e dei value associati. Il ciclo si chiama FOREACH. E tra parentesi indichiamo qual è l'array che vogliamo consumare col FOREACH. Per ogni elemento dell'array che adesso indichiamo cioè dollaro frequenze già ma poi nella parte delle istruzioni dove vorremmo scrivere ECO e scrivere la lettera e vicino il valore cioè il suo contatore come si fa abbiamo bisogno di distinguere tra quello che è la key e quello che è il value e lo facciamo qua. Vedilo come AS una certa chiave che porta a un certo valore. Significa che alla prima iterazione la key corrisponde alla A e il value corrisponde a beh, non a 0 a quello che avrà contato questo ciclo FOREACH e così via. Alla seconda iterazione la key è la seconda chiave cioè la E e allora potremmo stampare qua ECO la key cioè il carattere poi non so due punti e il suo valore dollaro value e andiamo a capo dai BR beh, volevo sapere una cosa ora che ho sott'occhio entrambe le versioni del codice non sono più d'accordo nel definirla tale ma è davvero la più leggibile certo con l'altra potrei tirarmela un po' di più con delle tecniche più sofisticate ma non c'è motivo per non sposare questa risoluzione poi comunque ci diamo un'occhiata perché è troppo interessante e introduce anche dei meccanismi che tornano utili in altre situazioni però vorrei prima rendere un po' più flessibile questa risoluzione se un domani ci interessasse fare il conteggio con altre lettere è un po' scomodo tutte le volte andare a inizializzare così l'array diciamo che le lettere che ci interessano cioè quelle che stiamo beh, chiamo lettere lettere diventa una stringa a, e, i, o, u dollaro frequenze parte vuoto e poi con un ciclo for per ogni lettera in lettere aggiungiamo frequenze alla chiave corrispondente a quella lettera cioè dollaro lettere di dollaro di il valore 0 andiamo a cercare conferma salvo che il risultato non cambia adesso è facilissimo cambiarla configurazione delle lettere che ci interessano voilà per quanto riguarda le arree associative aggiungerei solo che non siamo obbligati a usare sia la chiave che il valore ma anche solo il valore quando mettiamo dopo l'es un identificatore quello è automaticamente considerato il value ecco qua solo il value ma non siamo neppure obbligati a usare questi particolari identificatori è solo un nome è il fatto che ce ne sia uno solo dopo l'es che fa assumere a quell'identificatore il significato di valore associato ma se vogliamo la key anche solo la key bisogna portarsi dietro anche il valore qua una scelta alternativa key value avrebbe potuto essere per ogni elemento dell'array dollaro frequenze la chiave che cos'è è la lettera no e il valore che cos'è è la frequenza ora per ogni lettera con la sua frequenza associata stampa la frequenza ok e per gli array associativi direi che c'è tutto quello che serve per ora e per un bel pezzo come dire che la parte che segue del video sostanziosa non è assolutamente un problema nel caso la troviate troppo difficile a digerire la parte che fa da corso recupero può essere terminata lo faccio come curiosità e per chi sta seguendo la playlist per fare un rapido ripasso del php o è comunque curioso di scoprire quei particolari un po' fuori dalle righe che quasi sempre in un modo o nell'altro poi ci infilo nei video eccola qui di particolare c'è che me ne sono letteralmente sbattuto di individuare quali sono le lettere l'istruzione con un array map che segue genera un array delle frequenze con il valore di qualunque simbolo presente nel file di testo punteggiatura caratteri speciali tutto ogni tanto abbiamo questi caratteri strani sono dovuti proprio ai caratteri speciali come le accentate ma questa volta risolveremo anche questo problema cosa fa array map chiama una funzione più volte passandole ogni volta un diverso elemento dell'array dal primo all'ultimo primo parametro una funzione e secondo l'array qual è la funzione questa lo è espressa in forma anonima sì come col javascript function che riceve mi è sembrato naturale chiamarlo dollaro carattere perché lavoreremo sulla stringona che contiene appunto tutti i caratteri uno per uno letti da file di testo poi c'è questa parte un po' strana che in javascript non ha corrispondente prima della graffa che definisce il blocco delle istruzioni che finisce qui questo è il corpo della funzione ma in questo corpo io avevo bisogno di poter modificare le frequenze che partono vuote per far utilizzare alla funzione variabili esterne dobbiamo specificarle con la clausola use vuol dire in questa funzione anonima voglio lavorare su dollaro frequenze mentre con il signore di poi questa seconda variabile proprio non mi serve quindi potete anche togliere lasciare soltanto ampersendolo frequenze e chiudere la tonda non è nella funzione che dollaro tutti i caratteri riceve il suo valore ma quell'assegnamento che vedete come secondo parametro della raymap tutti i caratteri assegna string split è lì che daremo il valore a dollaro tutti i caratteri devo anche mettere questa e commerciale di fronte al nome dell'array dollaro frequenze perché ho bisogno che si effetti un passaggio diciamo così un uso per indirizzo è un po' come la questione del passaggio per valore per indirizzo se non mettessi la e commerciale questo frequenze diventerebbe una coppia di come è in quel momento delle frequenze al momento della chiamata della funzione e tutte le volte ricomincerebbe praticamente dall'array vuoto così invece passo l'indirizzo e ciascuna chiamata di funzione su un nuovo carattere letto dal file andrà a costruire sull'array delle frequenze già modificato dalle precedenti chiamate ma abbiamo detto per capire poi la funzione stessa quello su cui lavora la funzione è l'array passato come secondo parametro all'array map allora saltiamo un attimino la funzione andiamo a vedere su cosa lavora la funzione poi diventerà chiaro come prima uso il comando file che come ricorderete restituisce che cosa un array di tutte le righe del file promessi l'impload fa la fusione come abbiamo visto l'altra volta di tutte le righe lette e produce una stringona con dentro tutto il file di testo ma array map non vuole una stringona come secondo parametro vuole un array atto finale uso la funzione str split che separa tutti i caratteri di una stringa e li mette come elementi in un array cioè se avesse la stringa ciao str split di ciao produrrebbe un array produrrebbe questo array c splitta separa e crea un array i ao ciao io però vorrei avere questo array cioè tutto quello che sto letto dal file di testo altrimenti poi dopo l'array map non avrei più il contenuto del file di testo trucchetto chiamo la funzione split che genera un array e potrei già fermarmi qui perché è quello di cui ha bisogno l'array map questo funzionerebbe solo che poi non potrei sfruttare tutti i caratteri qui nel for each produrrebbe l'array al volo ma si perderebbe nell'aria per non perderlo nell'aria me lo salvo in questa variabile che è esterna all'array map e l'array map riceve comunque l'array di cui ha bisogno perché l'assegnamento è un'espressione il suo valore è quello che è stato assegnato come dire questo echo stampa il valore 5 perché $x assegna 5 è un'espressione il valore è il 5 che è stato assegnato e per lo stesso motivo il secondo parametro passato a array map è il valore assegnato a $ tutti i caratteri cioè l'array ok allora adesso abbiamo capito spero che la funzione viene invocata tante volte quanti sono i caratteri letti dal file e ogni volta con la funzione si vede chiamare ricevendo come parametro un carattere e che cosa fa con questo carattere l'array dollaro frequenze a differenza di questo che trova già le chiavi e i valori con lo zero belli pronti non ha nulla deve stare in campana ecco perché non si butta capofitto a incrementare col più più dice ok devo incrementare il valore se c'è già quella lettera come chiave nell'array associativo quindi dollaro frequenze facciamo finta che il carattere sia proprio una vocale dollaro frequenze di a diventa qua sto usando l'espressione condizionale con punti domanda è come se fosse un if con l'else esiste la a nella rete delle frequenze come prima sì allora il valore da assegnare a dollaro frequenze str to lower di quel carattere è il valore che ha adesso più uno sto incrementando il contatore due punti altrimenti cioè se non esiste quella chiave è la prima volta che incontriamo la lettera nell'array che stiamo elaborando e beh non posso fare più uno più uno che cosa non ce neanche inizia la sua vita e quindi do valore uno è la prima volta che trovo la a poi invece andare a lavorare questa parte qui trovassimo altre a e quell'uno sarà incrementato in due poi in tre e così via e lo farà per tutti i caratteri di questo array contenente tutti i caratteri del file di testo atto finale il for each per la stampa per ogni lettera frequenza beh prima mi devo calcolare la percentuale che quindi è la frequenza diviso il numero totale dei caratteri ecco perché volevo ritrovarmi qui non è una stringa perché per far lavorare l'array map mi serve un array vabbè non uso lo strlen ma ho sempre a disposizione il count su quell'array tanto so che ogni elemento corrisponde a un carattere solo vabbè vuol dire divido per il numero totale dei caratteri presenti nel file moltiplico il percento come l'altra volta abbiamo la percentuale calcolata la percentuale con un eco stampiamo la lettera e la percentuale io qui non mi sto riferendo ai miei alunni perché non so se l'array map ancora non l'abbiamo visto non so se lo vedremo già quest'anno e certamente come ho dichiarato è al di fuori no dalla parte di recupero avete capito cos'è un array associativo avete capito come lo si può consumare col forage avete capito come si fa a controllare se c'è una chiave nell'array associativo sì avete raggiunto il vostro obiettivo come costo di recupero devo mantenere un'ultima promessa gestire per benino anche le accentate e altri caratteri speciali basta passare alle versioni mb delle funzioni coinvolte in particolare è questa che ci salva questo split capisce quando nella stringa c'è un carattere per il quale è utilizzato è sufficiente un solo byte e lo colloca nell'array risultato ma quando incontra un carattere che invece richiede due byte ne tiene conto e nell'array verranno così mantenute distinte lettere diciamo normali e quelle speciali che richiedono più byte e anche le chiavi ne terranno conto fate passare un po' il codice multibyte string to lower eh? non vi eravate accorti che quei rombi neri sono spariti? adesso troviamo le accentate come si deve gravi acute la punteggiatura le parentesi le virgolette tutto le cifre numeriche infatti qualche data era presente nel testo obiettivo completamente raggiunto nel prossimo video farei un po' di esercizi di generazione di parti HTML magari leggendo da un file di testo le informazioni che spiegano come costruire la pagina e come ultimo step del corso vedere come fare la stessa cosa ricevendo dati da una form HTML che chiama la pagina PHP sempre tutto sul server non useremo dei veri database ma dei file di testo come abbiamo fatto fino ad ora ma potremmo sperimentare abbastanza fedelmente il meccanismo di un login serio ovvero o la registrazione di un record di un cliente o di altri dati a risentirci